Salve a tutti, sono Marco Casari, benvenuti a questo nuovo video dedicato all'analisi tecnica e pattern armonici. Come di consueto, anche questo video sarà un video di analisi tecnica pura, quindi mi vedrete fare sul, in questo caso sono sul pound, quindi sterlina inglese nei confronti del dollaro neozelandese, mi vedrete fare analisi tecnica pura applicando un po' di fibonacci, pattern armonici, per cercare di capire come approcciare un mercato. Quindi questo video è uno scopo puramente informativo, didattico, per capire come un trader professionista approccia un mercato e capisce quali strategie attuare su un mercato in base a quali sono le condizioni in cui quel mercato si trova in quel momento. Guardate, e soprattutto andando a capire, ad usare più strumenti, più tecniche, più approcci possibili, al fine di crearsi un vantaggio statistico per cercare di prevedere la possibile mossa futura, basandosi non su un'idea o su un'opinione, ma su quello che ci sta dicendo la price action del momento. Allora, guardiamo un po' qui, cerchiamo di crearci, la prima cosa che faccio quando guardo un grafico, cerco di crearmi un po' una storia, faccio un po' di quello che viene definito storytelling, quindi mi racconto un po' la storia che il grafico mi sta raccontando, senza andarci a mettere sopra considerazioni di tipo personale, infatti è importante tenere fuori considerazioni soggettive, discrezionali, tenerle fuori la parte di analisi per non cercare di drogare la propria visione, drogare quello che il mercato ci vuole dire. Che cosa è successo su questo mercato? Beh, qui veramente non ci vuole un esperto per dire che da praticamente dal 2015 ci troviamo in una fase di profondo trend ribassista, guardate qua, il trend ribassista è iniziato in questo momento storico, quindi potremmo dire intorno ad agosto 2015, e qui che cosa ha fatto? Il mercato ha cominciato a scendere, scendere tra l'altro in maniera anche armonica, guardate, prima discesa, ritracciamento, qui mi copio e incollo questa linea per farvi vedere che qui si è formato un ABCD pattern, perfetto ragazzi, probabilmente nemmeno sui manuali lo troverete così perfetto, guardate faccio un po' di zoom per farvelo vedere, avete visto che cosa ho fatto io? Ve lo faccio rivedere con calma. Ho prima tracciato questo impulso ribassista e questo è il ritracciamento, fatemelo tracciare un po' meglio, e questo è il ritracciamento, bene, ritracciamento piuttosto profondo, non piuttosto profondo, un ritracciamento che probabilmente sta intorno al livello 0,50 di Fibonacci, fatemi vedere, perfetto, guardate, vedete il ritracciamento di Fibonacci sul primo impulso e dove si va a mettere il prezzo proprio sullo 0,50. Poi che cosa succede? Succede che c'è un secondo impulso, allora ho copiato e incollato questa linea qui, guardate, me la porto qua, guardate che armonia di movimento, come questo secondo impulso è identico, speculare al primo. Vi faccio vedere questa volta tracciando l'inversione di Fibonacci che probabilmente si è appoggiata questa seconda gamba sul livello 161,8 dell'estensione di Fibonacci, andiamo a vedere. Invece no, si è appoggiato sul 141, quindi un po' più corta come estensione, ma davvero, davvero movimento armonico, non se ne vedono di così armonici, non se ne vedono tanti, eh. Quindi ragazzi, questo è il punto A del nostro pattern, questo è il punto B, questo è il punto C e questo è il punto D. Vi ho fatto vedere come questa gamba, quindi la gamba che completa il pattern è praticamente identica al primo impulso. Questo ritracciamento si fermava al 50%, a livello 50% di Fibonacci, questo ritracciamento si era fermato al 141,8. Bene, quindi bellissima discesa, inizio di discesa piuttosto armonica. E poi che cosa è successo? Niente, che il mercato ha continuato a scendere. Guardate qua, di nuovo, ritracciamento, perché anche in una fase di mercato ribassista, di trend ribassista, perché qua ci troviamo di fronte ad un trend ribassista e nessuno potrà dire il contrario. Perché posso dire che siamo in un trend ribassista? Perché vengono formati minimi sempre nuovi. I massimi del prezzo cominciano a scendere, i minimi diventano sempre più profondi, no? Quindi siamo in un trend ribassista, ma i trend ribassisti, o rialzisti, che dir si voglia, non è che si muovono in maniera come una linea, quindi in maniera così dritta e perfetta, no? Ovviamente si muovono seguendo degli andamenti, no? E lo vedete proprio in questo caso. Ci sono degli impulsi ribassisti e dei ritracciamenti. Impulsi ribassisti e ritracciamenti. Andiamoci a vedere, ricopiamo e incolliamo questa linea per vedere se anche il terzo impulso è speculare. In realtà lo è abbastanza, anche se si ferma un po' prima. Probabilmente qua se mi vado a tracciare l'inversione di Fibonacci vedrete che mi fermerò sul 127 come livello. No, di nuovo mi fermo in realtà con lo spike qua, questo spike qua si ferma sul 141 prima di vedere il rimbalzo e andiamo a cancellarmi questa, quindi nuovo impulso ribassista, nuovo ritracciamento, nuovo impulso ribassista, vi sto facendo vedere proprio come si è mosso il prezzo, nuovo impulso ribassista, questa volta un ritracciamento, guardate, che interrompe il trend ribassista. Perché posso dire che interrompe il trend ribassista? Eh beh, perché questi massimi qua sono stati rotti. Vedete che il prezzo ha creato un nuovo massimo, quindi qua è dove, dico sempre durante i miei corsi, quando facciamo live trading con i partecipanti ai corsi, dico attenzione, qui c'è un alert, perché il trend ribassista questa volta ha creato un nuovo massimo, quindi qui c'è un momento di attenzione per vedere che cosa succederà successivamente sui mercati. E che cosa è successo dopo? È successo che il trend ribassista ha continuato, guardate, in maniera ancora più forte, qui siamo vicino alla Brexit, guardate qua che bel impulso ribassista, poi di nuovo un outside return, e poi è successo qualcosa, è successo che in questa fase qui, nella seconda fase, il mercato ha smesso, ha interrotto il suo trend ribassista, e si è praticamente incastrato in questo canale. Questi sono i minimi del canale che vi sto tracciando e questi sono i massimi. Vedete che il prezzo qui, che cosa ha cominciato a fare? Il prezzo ha cominciato a, dopo questa discesa, bene, ha cominciato a rimbalzare qui dentro. Vedete? Ha rimbalzato sul... ha usato come resistenza a questo supporto di prezzo e come supporto... questa struttura di prezzo, scusate, come supporto quest'altra struttura di prezzo. E praticamente ci si è incastrata dentro. E, insomma, è ormai un po' di tempo, perché qui siamo... è cominciato nel ottobre 2016 e ancora oggi siamo qua, siamo dentro a questo canale. Quindi, finito un trend ribassista, io da trader che cosa so che se mi trovo in una situazione di mercato che si muove in maniera laterale. È che questo è il momento... è un momento buono per andare a vedere se si formano i pattern armonici, perché i pattern armonici si formano in situazioni di mercato laterale non strutturato. Sono... trovano la massima espressione in questo momento di mercato. Perfetto. E andiamo a vedere che cosa... qui che cosa è successo. Dal punto di vista di analisi tecnica si è formato... innanzitutto si sono formati qui un doppio minimo, che poi è diventato quasi un triplo minimo qua. Il fatto è che questo triplo minimo non è mai riuscito a rompere questo livello che altro non è che la neckline del nostro doppio minimo, no? O triplo minimo in questo caso. Quindi è dove c'è il breakout che mi dà un segnale di possibile rialzo del prezzo. Non è mai successo questo, perché il prezzo invece ha trovato sempre questa resistenza ed è sempre tornato indietro. Addirittura qui potrei vederla come... qui ho creato un doppio massimo e adesso sta creando di nuovo un triplo massimo. Quindi... adesso siamo proprio in una fase classica in cui o ci aspettiamo la rottura della neckline al rialzo, quindi che il prezzo possa andare da questa parte un nuovo rimbalzo con il prezzo che torna giù. Importante è qua andarsi a vedere quelle che sono le strutture intermedie di prezzo, perché lì il prezzo potrebbe... o i cosiddetti pivot point, quindi magari li faccio di un altro colore, li faccio viola. I pivot point, il prezzo vedete che qui ci sia un po' fermato, questo è un altro, eccolo qui. Questi sono altri punti su cui il prezzo ha reagito. Quindi vuol dire che noi potremo vedere il prezzo adesso che per esempio rimbalza, fa un rollback su questa neckline e potrebbe rimbalzare qua, rimbalzare per poi schizzare verso l'alto, rimbalzare per continuare invece a scendere e magari sentire questa struttura di prezzo, incastrarsi qui dentro. Insomma, tracciare queste linee in un mercato che si sta muovendo lateralmente ci permette di capire quali sono le soglie di prezzo su cui il cross, in questo caso il pound nei confronti del dollaro neozelandese sta rimbalzando. Bene, ma abbiamo detto che da trader noi sappiamo che se ci troviamo in una situazione di mercato laterale i pattern armonici, scusate, sono quelli che... trovano maggiore espressione. E lasciatemi... fatemi anche... faccio un attimo zoom... fatemi anche mostrarvi una formazione piuttosto rara che non si vede spesso ed è un... questo è un running bottom e che però ha seguito poi ha formato un cosiddetto cap and handle. Il cap and handle, l'altro non è che il pattern ha la classica tazzina con il manico. Vedete che manico che è stato rotto qui ma poi il prezzo è subito rientrato. Ovviamente io qui non avrei mai da trader, non avrei mai tradato alla rottura della... questo breakout qui, non sarei mai entrato con una posizione short. Anche se questo pattern qua mi dice di entrare... in questo caso di entrare short perché questo è un rounding bottom. Non l'avrei fatto perché so che ci troviamo in una situazione di mercato laterale. Quindi non mi sarebbe bastato questo segnale per entrare al ribasso. Ragazzi questa è l'importanza di avere al proprio archo come trader più frecce possibili che ci permettono di usare più tecniche e di identificare più segnali possibili sul mercato al fine di scegliere il trade, la posizione migliore, quella che ci dà più probabilità e che ci permette di avere un vantaggio statistico rispetto a quello che sta succedendo sul mercato. Io se qui fossi entrato alla rottura, fossi entrato short, adesso avrei preso lo stop loss sicuramente qua e avrei sbagliato perché il mercato è vero che si è formato questo pattern che è un pattern ribassista ma avrei dovuto leggere in maniera più ampia, avrei avuto tanti altri segnali che mi dicevano che non c'era adesso con questo breakout la possibilità di un ribasso perché qui avrei incontrato resistenze importanti, ne avrei incontrata una qui, ne avrei incontrata un'altra qui, un'altra qui, quindi pensate tre resistenze prima di effettivamente che il prezzo potesse scendere, quindi sarebbe stato aggressivo e prematuro entrare in questo modo. Bene, spero di farvi con questi ragionamenti che faccio ad altavoce di farvi capire un po' come bisogna approcciare l'analisi tecnica e le varie situazioni e scenari di mercato, questo è fondamentale. Vi voglio far vedere che qui si è formato, proprio perché siamo in una fase laterale, si è formato un bel pattern armonico, un bad pattern in particolare, guardate, allora lo vado a disegnare intanto, è un pattern armonico ribassista, è un bad pattern appunto come vi dicevo, e che ci dà un segnale, qui si era formato già da questa parte qui, fatemi cancellare un attimo Fibonacci, bene, perché questo pattern ci aveva già dato qua un segnale ribassista, perché questo segnale ribassista di questo pattern armonico, fatemi fare un po' di zoom, mi piace invece, mi piace perché si instaura, diciamo si forma all'interno di un canale, quindi la formazione di questo pattern armonico è molto vicina a questa struttura di prezzo qua, che più volte ha funzionato da resistenza nel tempo, quindi è probabile che effettivamente il prezzo qua possa fare un rollback e tornare indietro. E qui mi sono disegnato un pivot point, un primo pivot point, quindi verosimilmente questo ritracciamento verso il basso potrebbe, del prezzo potrebbe arrivare a questo pivot point o addirittura al secondo pivot point. Quindi se come al solito qui poi mi vado a, io ovviamente ho delle strategie molto precise su pattern armonici, sono strategie che insegno durante il mio corso, del 10 minute trader complete course, quindi so esattamente quando entrare, dove posizionare lo stop loss e dove posizionare il take profit, però qui vi voglio far riflettere su come potreste andare a ragionare su questo pattern armonico. Quindi potreste per esempio decidere di aprire qui un'operazione in short e mettere uno stop loss probabilmente in maniera cauta al di sopra di questi valori qua e valutare un take profit su un primo pivot point. Quindi poi subito andare a misurare quella che io chiamo essere il rapporto, io chiamo quello che si chiama essere il rapporto rischio rendimento e quindi vedere rispetto a quello che perdo quant'è quello che vinco e come dico sempre questo rapporto che si chiama rischio rendimento deve essere tendenzialmente maggiore di 1 a 1, che vuol dire che se investo 100 devo poter vincere più della cifra che ho investito. Bene ragazzi, come al solito questi sono solo spunti e riflessioni, in questo video per me era importante farvi vedere come andare a leggere il mercato e come usare più strumenti, quindi l'analisi tecnica, fibonacci, ritracciamenti e inversioni, ABCD pattern, pattern armonici, come usarli e metterli tutti insieme per andarsi a trovare il momento migliore per tradare il mercato, per aprire operazioni e questo secondo me sul pound sterlina contro nei confronti del neozelandese era un ottimo esempio per farvi vedere come capendo la situazione del mercato in cui ci troviamo, mercato laterale in questo modo, andarsi a trovare degli spunti dentro a questo scenario di mercato per poter andare a tradare, nonostante il mercato non si sta muovendo in tendenza, ma ricordatevi i mercati si muovono seguendo una tendenza rialzista o ribassista solo per, si dice, il 30% del loro tempo, quindi per il 30% del loro tempo si muovono in trend, per il 70% del loro tempo si muovono in maniera laterale o non strutturata, ok? Quindi avere delle strategie che lavorano su mercati laterali non strutturati vuol dire poter tradare il 70% delle volte su un determinato mercato, perché in tendenza ci si trovano molte poche volte in termini percentuali relativi, ovviamente. Ecco perché dico sempre, dovete avere strategie che vi permettono di operare sul mercato in trend, ma soprattutto dovete avere strategie che vi permettono di operare su mercati laterali, perché altrimenti voi rischiate di star fermi molto tempo di non avere strategie che vi permettono di tradare in questa fase qua di mercato laterale non strutturato. E questo è proprio un esempio classico, quello che abbiamo, che sta succedendo qua sul neozelandese. Bene ragazzi, che dire, fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto, in modo tale che ne farò altri di questo tipo, fatemi sapere, lasciatemi un commento e ditemi che cosa ne pensate, qual è la vostra visione di questo mercato e di questa fase del mercato, io rispondo sempre a tutti nei commenti. Fate clic su subscribe in modo tale da essere avvisati, il tasto subscribe lo trovate qui sotto a questo video, in modo tale da essere avvisati ogni volta pubblicherò un nuovo video, io tendo a pubblicarne circa 3 o 4 a settimana, a volte anche di più di 3 o 4, quindi in questo modo venite immediatamente avvisati, notificati nel momento in cui pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, per oggi è tutto, io vi auguro una fantastica giornata e buon trading a tutti, ciao!